Sono parte fondamentale del nostro reparto. Senza di loro non potremmo volare su macchine sicure e gestire tutte le pratiche che servono a questo reparto. Parto dal primo maresciallo luogotenente Giancarlo Provedel, che tra l'altro è anche prossimo al congedo. Si ricorda bene. Il capo segreteria a comando, primo maresciallo luogotenente Mauro Zonta. Il capo segreteria a PR, primo maresciallo Gian Antonio. Dov'è? Fatelo passare che è piccolo. Il capo nucleo fotografico, il maresciallo di prima classe Mario Riccardi. Il capo nucleo personale, il maresciallo di prima classe Massimo Giordano. Il capo organo sicurezza, il maresciallo di prima classe Gianluca Bugliatti. Anche se non se lo meriterebbe, però scherzo. Passiamo ora al servizio tecnico rinforzato. Lasciando i capi, gli ufficiali, passiamo ai capi sott'ufficiali. Capo nucleo AGE, primo maresciallo luogotenente Luigi Rossi. Capo nucleo Lina Golo, primo maresciallo Dario Burfone. Capo nucleo controllo, primo maresciallo Gaetano Perrotti. Capo nucleo e manutenzione meccanica, primo maresciallo Stefano Pandolfo. Capo segreteria SEA, primo maresciallo Renato Molaro. Capo nucleo, manutenzione e propulsori, primo maresciallo Fabrizio Di Bernardo. Capo nucleo comandi di volo, maresciallo di prima classe Domenico Papa. Capo nucleo e manutenzione meccanica, primo maresciallo di prima classe Giordano Graziano. Capo nucleo sistema avionico, maresciallo di prima classe Roberto Vallega. Capo nucleo e manutenzione meccanica, primo maresciallo di prima classe Roberto Vallega. Capo Nucleo Gestione e Materiali, Maresciallo di Prima Classe Giuseppe Spagnuolo. E infine il nostro sottufficiale più anziano, il Capo Angar, prossimo anche al congedo, il primo maresciallo luogotenente, nonché Cavaliere Domenico Maraglino. Questa è la rappresentanza dei sottufficiali delle trecce tricolori, meritano un grandissimo applauso perché sono veramente uomini eccezionali. E ora, come nelle migliori trasmissioni televisive, chiedo ai concorrenti di lasciare il palco, perché se non c'è...